Vediamo alle sue spalle centinaia o forse migliaia di tappi, di che cosa si tratta? È una raccolta a favore del Crodi Aviano, che in questi anni noi abbiamo sempre partecipato con loro con la raccolta stessa. Quest'anno un po' di più ne abbiamo perché con la questione pandemia automaticamente la raccolta è stata maggiore. Non è stato possibile consegnarli prima, domenica verranno loro qui da noi, presso la nostra sede, e si consegneranno facendo un piccolo programma, una manifestazione che vedrà realizzare ipoteticamente una casina che sarà poi a sua volta fatta su, presso il Crodi Aviano. E per che cosa verrà utilizzata questa casetta? Le casette che verranno costruite saranno a favore delle famiglie benambienti che purtroppo devono soggiornare in quelle zone venendo dai punti d'Italia più o più lontani. Dove e a che ora si svolgerà l'evento? Allora l'evento si svolgerà qui in via degli Schievoni 3 dove abbiamo noi la sede, nella piazza Tigua alle spalle dell'associazione. Inizierà alle 10, anzi in questo momento io ne colgo l'occasione per invitare tutti quanti i cittadini che vogliono, anche per curiosare, che possono essere loro partecipi, portare anche loro a dare una mano, a portare questi bidoni. E ognuno di loro, volendo, potrebbe anche lasciare un nome, un nome che per dire a lui o a lei faccia piacere, che verrà trascritto su una stellina che poi alla fine l'organizzazione ci dirà quello che appunto ne faranno.